Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori. Quando parliamo di questo argomento, cioè della cimice marmorata asiatica, non parliamo di un semplice insetto, ma parliamo di un gravissimo flagello per l'agricoltura nazionale. Lo sappiamo che è originaria, come è stato detto in precedenza, dell'Estremo Oriente, che però può causare gravi danni su oltre 300 specie di piante. In Cina ha causato danni per oltre un miliardo di dollari, poi si è diffusa a Taiwan, in Giappone e in Corea del Sud, per raggiungere gli Stati Uniti nel 1998, dove è stata prontamente individuata, però, come è stato detto prima anche dai colleghi, ha devastato migliaia di ettari di frutteti. La cimice è apparsa in Europa nel 2004, in Italia è stata ritrovata nel 2012, appena fuori Modena. Un anno dopo aveva già colpito intere aziende agricole, intere terreni, territori del Piemonte, Lombardia, Veneto e Priuli, dove ha praticamente distrutto nel tempo il 40% dei raccolti. Si andava dalla soia alla frutta all'uva. Stagione dopo stagione la situazione è sistematicamente inesorabilmente peggiorata. La puntura della cimice avviene nella fase di sviluppo del frutto, crea delle fossette e delle aree necrotiche sulla superficie. Se avviene nella fase di maturazione, crea malformazioni che rendono il frutto deprezzato innanzitutto e non commercializzabile. È un pericolo perché mette a rischio le coltivazioni di pere e di kiwi, che rappresentano per il nostro Paese culture di punta, a livello di mercato anche mondiale. L'Italia è il primo Paese al mondo per la coltivazione di kiwi e il terzo produttore di pere dopo Cina e Stati Uniti, secondo i dati che sono stati mandati dal Centro Servizio Ortoprutticoli. Col di Retti ha già quantificato i danni della cimice in un miliardo di euro, che non sono poca cosa. Particolarmente grave è oggi la situazione anche in Piemonte, dove l'insetto è in grado di attaccare, tra l'altro, una cultura importante come quella del nocciolo, così preziosa per l'economia locale. Già nel corso del 2017, nonostante l'applicazione di più trattamenti insetticidi, l'elevata presenza di cimice asiatica in alcune regioni italiane ha fortemente compromesso la qualità della produzione corilicola. Per far fronte a questo attacco alle culture agrarie, in particolare, come dicevo prima, per il nocciolo, in Piemonte è stato costituito l'osservatorio della cimice asiatica all'inizio del 2018 e ha rilevato un incremento delle segnalazioni di Moria, sia di corileti di recente impianto, cioè quelli che vanno dall'uno ai quattro anni, e sia negli impianti più anziani, dai sei a otto anni, che si sono rivelati molto, molto elevate. Ecco perché noi chiediamo oggi al Parlamento un intervento rapido, che il Paese corre ai ripari. Come è stato confermato nel ciclo di audizioni in Commissione Agricoltura, l'uso degli antiparassitari, che peraltro non è certamente privo di conseguenze per l'ambiente e la salute, si è rivelato uno strumento di contrasto scarsamente efficace. Tra le tecniche di lotta più promettenti si potrebbe essere l'utilizzo di questi antagonisti naturali, della cosiddetta Vespa Samurai. La lotta biologica, lo ricordo qui, è una tecnica preziosa per la nostra agricoltura, che tutela i produttori, ma soprattutto tutela il consumatore finale. E anche in Italia non è sempre stata utilizzata come altrove, a causa, come è stato detto anche in precedenza, di un quadro normativo contraddittorio, che paradossalmente avrebbe invece potuto preservare l'ambiente. Tra le proche eccezioni, è stato ricordato prima molto bene dal collega Bruzzone, da ricordare l'esperienza di contrasto alla cinipida del castagno, un immenottero che rischiava di distruggere la castanicoltura da frutto e di creare grave pregiudizio ai castagneti, che caratterizzano gran parte del nostro patrimonio boschivo. Questo parassite è stato efficacemente contrastato senza l'uso di pitofarmaci, ma semplicemente introducendo un suo antagonista, che ha consentito di affrontare un'emergenza che rischiava di provocare conseguenze drammatiche nel pieno rispetto dell'ambiente. È accaduto, infatti, perché era in vigore il decreto 357 del Presidente della Repubblica, che ha recepito in Italia, in termini eccessivamente restrittivi, la cosiddetta direttiva habitat. L'articolo 12, infatti, dieta tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autotone, come già stato detto in precedenza. Questo Governo si è opportunamente mosso, e qui ringrazio il sottosegretario, ma ringrazio tutto il Governo, e lo scorso 9 aprile ha approvato una nuova formulazione dell'articolo 12, che ora prevede che anche in Italia si possa, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autotone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e sia comunque di monitoraggi importanti. La nuova normativa, approvata con grande celerità, prevede però una procedura articolata, ed è quello che noi andiamo ad individuare oggi ed è anche ad invitare di attuare al più presto. È infatti necessario che il Ministero dell'Ambiente adotti un decreto che fissi i criteri per l'emissione di natura delle specie e popolazioni non autotone. Questa entrata a regime rischia di rinviare di troppi mesi l'avvio concreto della sperimentazione della Vespa Samurai, e dunque l'azione di contrasto alla cimice e di non consentire un intervento rapido già magari in questa stagione agricola. Potrebbe essere troppo tardi se aspettiamo ancora un po' di tempo. Per questa ragione la Commissione Agricoltura, ringrazio il Presidente, ma ringrazio tutti i componenti, ha lavorato bene, ha trovato una sintesi all'unanimità in un documento che portiamo in Aula e che è importantissima la sua approvazione qui oggi. Oggi l'Aula è chiamata di fare la medesima approvazione che è stata fatta in Commissione Agricoltura. Non abbiamo più tempo da perdere. Gli ultimi rilevamenti nei diversi siti monitorati sullo stato dello svernamento della cimice asiatica hanno dimostrato che le fuoriuscite da inizio marzo fino al mese scorso risultano pari a oltre il 27%, un dato superiore a quello verificatosi l'anno scorso. La sintesi delle fonti che mettono previsioni meteorologiche segnalano che queste prime due settimane di giugno saranno caratterizzate da un graduale e continuo incremento delle temperature, minime e massime, da regimi in termini di pioggia al di sotto della media stagionale. E' il contesto ideale perché la cimice faccia danni. Io, oltre a ringraziare naturalmente tutti quelli che sono intervenuti e l'apporto dato da tutti i gruppi, dico semplicemente che anche e soprattutto gli istituti di ricerca e sperimentazione hanno fatto bene il loro lavoro. Noi ci siamo a bassi di documentazione importante, tra questi CREA, per aver dato valore al lavoro di monitoraggio e lotta a questo dannoso insetto. Giochiamo d'anticipo, usiamo l'intelligenza che c'è propria, è necessario offrare blocco e dare una risposta pronta. Noi possiamo fare presto, dobbiamo fare presto e per riuscirti è necessario il voto di oggi. Per questo il nostro gruppo, Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, voterà convintamente a favore di questa preziosa e determinante risoluzione, per gli agricoltori e per tutti gli italiani. Grazie.